Buongiorno, questo è il primo di una serie di filmati che riguardano l'opinione pubblica. Buongiorno, questa serie di filmati illustrerà alcuni concetti di base dell'opinione pubblica. Servono quindi come un'introduzione generale a questo tema. Sono un gruppo di filmati, non ce n'è uno solo, in questo parleremo di che cosa non sono i sondaggi d'opinione, degli aspetti relativi alla filosofia politica e delle relazioni fra l'opinione pubblica e lo Stato moderno. In un filmato successivo si tratterà la genesi storica e gli autori che hanno trattato questo argomento. Il primo punto è perché quando si parla di opinione pubblica si intende qualcosa di diverso dalle sondaggi di opinione. Spesso questi due termini sono confusi, soprattutto nella televisione o sui giornali. Quando si parla di opinione pubblica si intende questo, l'insieme delle opinioni della maggioranza della popolazione, dei cittadini, relativamente a un certo argomento di tipo economico, di tipo politico, di tipo culturale. In questo senso, come vedremo, ci sarà anche un'ulteriore distinzione, perché con il termine opinione pubblica appunto ci si riferisce a ciò che la maggioranza della popolazione pensa riguardo a un certo argomento. Non è tanto un sondaggio d'opinione, in quanto il sondaggio d'opinione ha lo scopo di scoprire quale sia l'opinione di un gruppo di persone relativamente a un certo argomento. I sondaggi d'opinione sono articolati in maniera travolta molto complessa, richiedono studi di statistica e la compilazione di questionari ed è una cosa completamente differente, in quanto l'opinione pubblica non è finalizzata all'individuazione di scelte di consumo, ad esempio, ma riguarda più che altro le opinioni della maggioranza delle persone o di gruppi consistenti della società relativamente dalla politica, alle scelte economiche, alle scelte culturali che uno Stato o un governo sta assumendo. In questo senso l'opinione pubblica è interpretata da uno dei concetti della filosofia politica, ha a che fare non tanto con il commercio, ma con la filosofia politica. come vedremo adesso, vi sono alcuni concetti che legano l'opinione pubblica da un lato alla democrazia rappresentativa e dall'altro alle forme moderne di democrazia rappresentativa. Democrazia rappresentativa perché? È soltanto in un sistema in cui viga la democrazia rappresentativa che ha senso ed è importante per le persone elette conoscere e confrontarsi con l'opinione pubblica riguardo alle scelte di governo che gli eletti stanno facendo. In altre parole, l'opinione pubblica è un aspetto importante, talvolta fondamentale, del rapporto fra elettori ed eletti. Presuppone quindi una differenza fra la società e lo Stato, fra la società e i partiti e fra partiti e Stato. Nei sistemi in cui non vi sia questa differenza, ovvero sistemi in cui società, Stato e partiti costituiscono una cosa sola, il problema dell'opinione pubblica non si pone, non si parla di opinione pubblica. Queste forme di governo sono principalmente le forme di governo totalitaristico come ad esempio il fascismo, il nazismo, il comunismo, regimi nei quali per l'appunto la società, il partito e lo Stato erano una cosa unica, non vi era differenza tra queste due cose. Nei regimi totalitari non si pone il problema dell'opinione pubblica quanto il problema del consenso, cioè come fare sì che la società o i cittadini sia consenta alle regole e alle leggi imposte dal partito. Quindi non è una richiesta di opinione, non è in confronto con l'opinione reale, ma è come plasmare la popolazione in maniera tale che consenta che sia d'accordo con delle decisioni che sono già state prese a livello centrale di partito. Questo tema dell'opinione pubblica ha un importante risvolto per le forme moderne di democrazia, per le modalità moderne della democrazia rappresentativa. Perché? Perché secondo le modalità moderne di democrazia lo scambio di opinioni, la condivisione di opinioni passa attraverso quello che viene chiamato il Web 2, termini molto molto generali tramite internet, ma il Web 2 2.0 come vedremo ha delle caratteristiche proprie che lo rendono uno strumento per la diffusione e la condivisione di idee estremamente potente e estremamente interessante proprio per lo sviluppo e il modo in cui la democrazia moderna e forse anche del futuro si svilupperà. In questo senso appunto si assiste a un cambiamento molto per molti versi epocale e cruciale nella gestione politica. Con questo si è conclusa la prima parte, il prossimo filmato riguarderà il legame stretto che vi è raccogliere fra democrazia e opinione pubblica.